Tu parli inglese? Sì. Sì o no? Signore scusa un saluto. Lavoro il gennaio. Ma vaga pur di me! E vaga a cantare. E vaga a cantare. A tu. Buon barco. Si prova. Basta poco. E suca sai. Vai vai vai. Buongiorno e buonasera a chi c'è? No il replica non ne manano. No siamo pure il re. Buongiorno. E già ve ne andate. E già ve ne andate. Dove siete andate? Buongiorno caro. Come sta? Siamo stamattina alle otto. Siamo scesi. Però accompagnatemi ora. E dove siete voi? Buongiorno amici. Allora oggi abbiamo... Sembra i soliti job. Perché? 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 Siccome mi viene da parte la macchina ha fatto le bizze. E quindi siamo qua. Però queste sono le prime puntate. Ma ci sposteremo sull'Ionio, sul terreno. Ci sposteremo. E tu come ti chiamassi? Lucia. Lucia. E tu? Fabio. Senza voce sei? No io così basta. A mamma se devo? Sì la mamma. E che facete in rapida voi? Che fate? Disoccupata. Già beh. Purtroppo. Ho obbligato... Ho obbligato... Ho obbligato... No. Già beh. E tu sei fidanzata? Sì. E dove fidanzata? In Puglia. E in Puglia. E in Puglia. Ma compagni fino a qua. Compagni, compagni. Facciamo tutta la camera tele. Ecco ragazzi divertite perché qui è brutto la camera. Ma ti cacciate le scarpe? Ma te la pipa? Ma te la lava? Ma te sderruzza che ti arraste la rogna a te. Ma te la rogna a te. Ma ti fai caduto questa sciarpetta? No, perché questa qui è vera ragazzi. A parte il collo. A parte il collo. E poi la gerbicale. A chi? La gerbicale. Non c'è, non c'è. La gerbicale. Come siete belle però. E il vostro marito? Paola. Allora ragazzi, qua non c'è nessuno. Ti ha visto però una signora. Buongiorno signora, come state? Che meraviglia. Guarda che bella pa... Che bella signora. Ha visto? Quanto tempo che non mi vede ragazzi. Che meraviglia. Poi se volete il nostro intervento sulle spiega. chiamateci. Abbiamo tre pagine. La c'è. Per mettere signora. Abbiamo pieno gigliotto. Abbiamo gigliotto e pino. Ci ho fatto i gigliotti. Che schietto ferrià. Buongiorno signora. Che meraviglia. Guarda che mare però. Guardate che mare meraviglioso. Avesse una accusenza su mare. Ah. Avesse una accusenza e signora prendiamo un capo niente. O eh signora. Che ti ha messo il suo lampadale? Ti ha messo il suo lampadale. Ti ha messo il suo lampadale. Ecco. Sola sola la signora. Perché se ne sta in disparte? Perché prendiamo sola. Ma come prendiamo sola? Ti ha messo il suo lampadale. Ti ha messo il suo lampadale. Ti ha messo il suo lampadale. Però. Mordi e fuggi signora. Con la zioncina. Io voglio ripigliarlo. Già. 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 Mi hai chiamato un po' ripigliato. E che fai il tuo fidanzato? Come signora? No. Stiamo cercando di chiedere mare. No. Com'è mare. Come sono le vacanze. E' cambiato qua. Ha detto che stava da signora. Ha accompagnato. Venite. 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 Portami. Allora fai una cosa. Tutti i giorni. Facciamo una camerata. Vieni. Capone. Facciamo un banco tutti i giorni. Venite. Vieni. Cinque minuti. Vieni. Perché non ci metti? Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Perché le spiagge sono queste. Sì. Non ci metti. Non ci metti. Non ci metti. Non ci metti. Ma non ci metti. Non ci metti. Non ci metti. Non ci metti. Poi. Guarda che mare. Sì. Ragazzi che è stato? Ho cominciato a dire che è stato. Vabbè. Ancora è presto però. Allora vediamo un po' come sta acqua stamattina. Venite. bene è bella è bella è bella ma avete fatto già un bagno? e che cucinare oggi? ma ora non lo sappiamo ma più o meno qual è il piatto? la pasta con il pomodoro fresco che meraviglia ero pomodoro e nonna sono portata la salsa della nonna me c'è a fondo me c'è però portateli bottiglia sennò che belugno? la salsa della nonna nel mondo ragazzi come stai? guarda che mare mamma ragazzi ma che mare buongiorno guarda che mare signora mia ma questo è un lago eh e vieni qua, vieni qua, vieni qua, come ti chiami tu? Fabio vieni qua signora come avete fatto già il bagno? avete fatto? di dove siete? a Vito a Renda ah secondo signora Renda ma che meraviglia in famiglia siete? io e mia figlia che bellezza guarda che meraviglia signora mia signora come sta acqua? eh? buongiorno è buona? di dove siete? venite venite il mare è bellissimo signora poi spostamone qua con c'è? buongiorno vai spostamone spostamone signora buon bagno allora e nonna che tappu lallero nonna che tappu ti andranno lombellone e venite che ancora sull'unico che ti mangiate a solare oi? bimbe belle che la mattina che c'è che c'è che c'è che c'è che c'è stamattina c'è un mare meraviglioso e non c'è niente ma perché non venite? signor bella quest'acqua stamattina? bellissimo ma che meraviglia signora ecco perché oggi quest'anno vogliamo sapere no? se è cambiato qualcosa dall'anno scorso o la stessa cosa? no è la stessa cosa di dove è lei? a Montreal Canada ah aspetta 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 signora allora noi saremo il 12 al mondo aspetta aspetta noi saremo il 12 a Montreal con la commedia di Sergio Crocco io la presento Montreal e aspetta ti ha già saputo? ah si conosco è il 12 quindi saremo la ragazze il 4 si parte in questo? io sono qui fino a ottobre ah siete qua? ma c'è qualche parente c'è? si c'è mio fratello e i miei figli ah siete qua in vacanza? si 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 e allora quindi ragazzi questo è l'occasione giusta? sei mesi qui e sei mesi lì ah beh beh ha tanto lavorato lei? come? e sa richiungere se si si lavora lavora quindi però in vacanza? ah bellezza è che siete solo c'è qualche figlio? no solo solo guarda meglio solo che ma che lavoro ha fatto a Montreal? sono il supervisore aiutateci guarda che guarda che cosa si scialano guarda come si scialano guarda come si scialano ragazzi non fate arrabbiere la mammina signora ve li chiamo io li chiamo io le faccio venire io sono ucraina so turisti turisti mangi e fuggi venga venga le devo fare un regalo se viene le faccio un regalo signora grazie siamo nenne giovani guarda che famiglia che mi ha trovato voi che meraviglia che meraviglia di ragazze che sono guarda qua guarda che meraviglia buongiorno guarda che lui che riesce a prendere l'ombrellone qua riesce a prendere l'ombrellone ma che figura fa se non riesce a prendere l'ombrellone? vieni qua vieni qua sesso sotto sesso sotto spostati spostati un po' puoi fare tu dove siete qua? guarda un po' con tutta la spiaggia che ha trovato una peglia provaci tu come ti chiamano? vieni qua vicino mi hanno questo è sotto l'ombrellone buono come si vedono tieni qua tieni qua tieni qua quando ne hai fatto? ecco appoggia così quando ne hai? vieni sei laureato sposato? sei lavorato a 20 anni magari guarda ecco a tutti i petri c'è te ecco a tutti i petri c'è te ecco a tutti i petri c'è te compa che andate a te lo so ha tutti i petri c'è te ragazzi come vedete qua vedete qua quindi la scuola avete finito l'università avete finito quale sono i vostri progetti in futuro d'estate? non ne ho progetti ancora non ne ho? quanto anni hai? quando anni hai? 18 anni ora si stanno divertendo se vogliono che si stanno ma non voglio andare dietro dove entra l'acqua che va con un sombrellone ragazzi che meraviglia siete fidanzatele? si e tu sei fidanzato? no 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 perchè? che fai? aspetta però vorresti trovare la magia meglio come no? per esempio come? dovrebbe hai un'idea no? bella bella alta magari bionda con la pila la signora basta che è seria è un fatto che seria una bella ragazza guarda che sta sudando guarda che sta sudando prima o poi però hai ragione prima o poi la facciamo tutti insieme più su più su più su tutti insieme a tre più su più su più su più su più su e poi che non è volgare faccio chiantare un ballone un attimo e che chiando ha ragione aspetta aspetta più su più su più su a tre che non è volgare non è mai volgare grazie ragazzi buongiorno ma guardate è un lago ragazzi voglio vedere chi si lamenta ma com'è questo? signore è un lago oggi mamma ragazzi si sta ammucciando si sta ammucciando già con un po' intervistate io che devo fare oggi devo portare la puntata a casa se no mia moglie che dice che sei andata a fare già non si fida mia moglie non si fida mia moglie non si fida invece sono andata a lavorare come ti chiami? guarda che bella ragazza no si guarda che sei bellissima come ti chiami? ruxandra alessandra? ruxandra ruxandra ah rossandra è un nome particolare di dove sei? romania oh che bel nome ragazza pure lei è molto c'è un regalo dammi la busta vieni qua però ti devi alzarsi vieni oh rossandra guarda che caterpillar aspetta allora vediamo no? sei fidanzata? no bugiata? no non ce l'ho fidanzata e che lavoro fai tu qua? non lavoro non lavoro? ho finito gli studi mamma o sorellina? no mia zia ma guarda che sono tutte belle in romania facciamo una bella cosa e poi vieni non mi gira alla camera ah vieni cosa lo sai già lo sai già ma non è volgare a chi ci vuole bene già a chi ci vuole male pa 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 tu ti faccio vieni vieni c'è un regalo per te no no facciamolo no mi vergogno io ti prego arrivo a casa mia mamma non porto la punta da mia moglie dove sei stato? non ci credo non ci credo non ci credo facciamolo una volta solo grazie vieni qua vieni qua a chi ci vuole a chi ci vuole male a chi ci vuole male a rubrosio così poi rifacciamo a chi ci vuole bene a chi ci vuole male a rubrosio io ci vediamo lì che potete e vieni qua mi piangere come le preferisci tosta o morbida dura o morbida la verità, la verità, allora se tu mi dici dura o morbida, tu è dura o morbida? morbida morbida? ecco, tu dai ciao venite, perché venite? ho un appuntamento per andare via un appuntamento? a meccanico a non meccanico puoi venire con noi? no, no ragazzi, aspetta menotti landuia meravigliosa ragazzi assaggiate nel mondo questi sono i prodotti calabrese i prodotti di menotti di menotti, vai a farti pure l'aria sei bellissima non vuoi accompagnare? no non ti fide? no no, meglio di no quanti anni hai, se posso sapere, 18? ma almeno ti erano di bosco che potrebbe essere nipote io, voi vieni, va accompagniamo ti sostiamo ma la zia, c'è anche un primo per le e vieni, vai, vai là, vai là vai là, capiamo, capi morto quando ti dico vai lì, vai lì, capiamo se mi dai il tempo ma ti dico il tempo? se tu non muovi la telecamera ragazzi, è un lago oggi oggi è un lago dai, venite fino a là ho finito 10 minuti, 10 minuti 10 minuti, 10 minuti 10 minuti buongiorno ti sta spogliando mezza via e di sé, dove sei? io? noi veniamo da Napoli che meraviglia però, però Napoli è bello il mare eh no, qua è più bello la vera? sì è un fatto soggettivo è un fatto soggettivo no, no, è soggettivo oggi è un lago quindi non dite per favore quando arrivo io il mare è pulito quindi, no? allora, e che fai nella vita? io? il papà di famiglia il papà di famiglia non lavoro? è cittadinanza? quando prendiamo un reddito di cittadinanza? quando capita? quando capita? però vedi, almeno è allegro dove è la tua famiglia? adesso mi è venuto un po' di allegria prima non ero allegro perché? e non avevo il reddito adesso c'è il reggio bravo, bravo no, questo è un fatto positivo questo eh no, la verità tu che lo prendi adesso andiamo tra il serio e il fagetto hai dato un respiro posso stare un po' più sereno per me e per la mia famiglia? è bello ragazzi, quindi questa è una testimonianza autentica che ti giustamente dice io ti auguro tante belle cose grazie buona giornata ragazzi, se c'è questa possibilità signora, ma è con te la signora? no, no, no la mia signora chi era la zia? il mio bambino e la signora e poi fai una che c'è un regalo per lei guarda la zia che faiuta valla con la zia valla con la zia valla con la zia valla con la zia ma sono tutte belle la ragazza della Roma guarda che se tu sei bellissima mannaggia la miseria signora c'è un premio venite che se no poi mia moglie mi picchia oggi dove sei stato? mi dice io non sono stato al lavoro ah sì non ce ne andiamo ma davanti a questa casca sui dieci e mezza davanti capiti appa? abbiamo da fare ciao bella mia ciao alla prossima grazie e già mamma sui dieci e mezza saldi portare vedi una poca ciao belli ciao ringrazio la lascia falla bene falla bene non so se signora se viene c'è un premio pensateci buongiorno in bocca al lupo a me come divertite questa è una cosa bella della vita erris signore erris guarda va che non c'è proprio nessuno verremo a Sopeia verremo la partita a Reggio piano piano che sono i primi puntati cadere una certa età ho il cameraman non lo vedo come è fatto produttore facciamo 30 anni no non ti prendi la confidenza io per arrivare ancora buongiorno come stai? guarda 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 il sorriso la gioventù il desidero il desidero e alzate alzate muovete alzate alzate per tornare ah lavora un gennaio ma va che buona ragazzi allora siete promossi però si guarda vieni qua ecco il dramma mi assomiglio quando era guaglione noi siamo i miei migli come ci ha detto almeno quando c'è il pane e il mortadello diciamo almeno quando spaccano la pitta e si mangia tutto allora promossi si poi se dovete evitare tutti i miei non ci vuoi la scuola no vieni qua si promossi promossi e poi da grande faccio l'estetista bravo attenzione ragazzi mettetevi la crema diciamo sì perché se no vi bruciate pure in gioculareno vi bruciate aspetta che non è volgare lo spiega ma che cosa è colare questa parte è qua bravo bravo barbarie quindi noi non siamo mai volgari mamma che mare ragazzi mia guarda come è brutto la camera non è vero come? non è vero e loro i fratelli? no i cugini uno è fratello e uno cugino si è guerrito si si che ne tocca la casa come sapete? ora vi faccio una domanda vediamo a te ti piace o tu o tu o tu o tu? ah 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 a te ti piace o tu o tu? ti piace il trono di rende il trono di piammanky guarda che bella macchina che bella macchina attenzione c'è anche bravo c'è anche il caffè andato il trono chiede già ragione ma che devo suonare e ci sono anche che lo sai che cosa le gialle per il caffè del caffè nato che devi prendere tu perché stai morendo e quindi siamo grazie ciao bimbi grazie vediamo a cos'è fidanzate a giapigliare come si chiama ed è come si chiama di chiaccelente la visita ciao bello ciao divertite divertitevi ragazzi la cosa più bella sa qual è stata chi ne ha preparato mamma lo sa che la mamma all'inghilterra ciao bello che meraviglioso allora ragazzi io vorrei far vedere la calabria intera al mondo intero su mare meraviglioso non ce ne so perché ma se ti fate una domanda ma potete fare una domanda ma faccio qui perché non sapete organizzare organizzate con le pompe con l'aereo con l'elicotter guarda che spada che mare stanotte ogni giorno alle 15 ragazzi ogni giorno alle 15 sulla c canale 19 o in streaming www.c.it canale 19 mettete il mio piatto sul permette signore mettete il mio piatto sul permette signore guarda che spasera buongiorno io che mare guarda che mare c'è ragazzi ma questo mare l'abbiamo solo voi dovete possiamo disturbare di dove siete? di pavia io lo posso pavia scusi no pavia secondo me lei è calabese e poi gli ha lavorato pavia sì che siete pavia che siete pavia ciao ragazzi possiamo venire poi disturbiamo un momentino no eh vabbè no no non ci venire abbiamo già capito è un collegio non ci so proprio non ci so assolutamente non ci siamo già venuti abbiamo già capito faccio anche questo lavoro tranquillo peccato perché potevamo portare un sorriso ma è giusto rispettare le regole attenzione per carità allora ragazzi pavia la signora io sono dopo di pavia pavia chignolo po e dico devo sposa in un calabrese di pavia e devo sposa inoltre mi sono sposata un paolano è stata la sua fortuna però vedi come padre è pavese signore sono 35 anni che sono sulla città 35 anni 35 anni che lavoro fai muratore artigiano edile le nostre forze sono dovute andare a lavorare fuori c'è tutti in lombardia certo ma come ti trovi benissimo ti hanno accolto bene benissimo ti sei pendito no assolutamente c'è moglietta come diceva no 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 ma non quanti figli avete due due siamo nonni figli nipoti e io lavoro in un ospedale ah beh questo è importante la fondazione salvatore maugeri è un ospedale di eccellenza veramente è lui che puzza noi e tanti di paola vengono in a pavia per curarsi tantissimi sì e prossimamente ci viene pure lui a fare che cosa a curarsi e perché per la testa no siamo già andati a parte allora signora mia quindi il cibo buono buonissimo si mangia meglio qua a pavia ma la verità io faccio bene da mangiare con ciò qui a paola è un po' difficile però tu mi fai una faccia conosciuta mi mangiare con Dino con Dino con Dino ma hai giocato a pallone e hai giocato no ma proprio di paola tu sei sì 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 no è un bravo ragazzo un bravo ragazzo veramente bravissimo se me lo sono sposato se me lo sono sposato perché è bravo poi ci fai assaggiare una cosa tosta signora a passaggiare una cosa tosta che cosa ma che cosa che cosa che cosa o si sa o si o no la cosa tosta ah ragazzi 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 guarda qua guarda qua ragazzi allora assaggiate questa ragazzi me notte me no mi sta facendo su una tutto ci fai sognare tutto il mondo perché quando eravamo una super strato una salsiccia che tu produci una salsiccia che senza tu che salume spettacolare poi poi mi dite ragazzi poi mi dite poi mi dite grazie ragazzi buona buona continuazione grazie mille infatti ci spaccano per malò ti ci fanno una dingha risci tu dingha risci certo un po' di vino va bene certo buonarda 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 barbera nooo ci vuoi avrete me peggiappora mio barbera anche il vino qua locale buonissimo eh una ceramica una ceramica non ve lo dico il vino che bevo io perché avete la pubblicità se no io bevo un vino calabrese che è meraviglioso un bianco se lo dice magari lo beviamo anche noi guarda io non so se eh ma lo dico perché comunque si chiama il vino bianco di? il por? di menotti no menotti ne fa vino riscigno come si chiama che abbiamo avuto il? pecorello il pecorello ragazzi che meraviglioso pecorello della Ciro giusto? di Ciro di Ciro allora assaggiate questo pecorello ragazzi Ciro non tu faccio più la pubblicità o lo fai perché vedi io sono corretto poi allargisci e poi che allargisci io morino in là quando manca la luce eh due minuti per questo allora io morino in là ritorniamo perché là c'è i bambini grazie signora va bene grazie allora ragazzi aspetta se c'è un bigliettino vi faccio vedere cliccate sulla pagina per mettere signora ce l'avete il telefonino? sì ecco allora questo è il mio bigliettino lo dicevo prima che ce l'ho fatta vedere in internet eh pure in internet ho già sentito questo cosa mettete mi piace e beh ciao amico a me ciao grazie in bocca al lupo divertite viva la Calabria viva il mondo interno viva la bella gente un minuto chiudiamo poi ci veniamo domani chiamiamo Utopos ti bagno la testa che sennò ti perdiamo io mi bagno la testa tu ti lavavate che ti porta degli annunzi ragazzi ciao guarda qua che spasera allora ragazzi appuntamento domani vi voglio bene un bacione ciao belle mie ciao allora ciao ragazzi e lasciamo questo mare per oggi domani alle ore 15 siamo sempre qua ritorneremo qua e domani molto probabilmente ci sarà Utopos quindi ci facciamo l'altra parte qua signore eh squit 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 ip ip benotti e mussi pupa a domani alle 15 con questa chiudiamo a domani alle ore 15 ciao ragazzi ciao ciao